Quello che non vorrei cercare dovresti fare una riflessione prima di metterti a disegnare sulla cifra stilistica che vuoi dare Esebi, perché vuoi darti? Boh, non so, però se no, io posso anche fare così La cosa è vera di questi risultati, sono i diavoli che non ci sono La cosa è bella cos'è? La cosa è bella di questi fumetti Cosa è bella? Cioè, il valore estetico Il valore estetico? Il valore estetico di che cosa? Di gli animali Che non ci dovrebbero essere Continuare